Salve, sono Alessandro Dellungo, del Team J Air Provo. Volevo illustrarvi alcune caratteristiche della nuova serie di radio del IJ e della GE. Innanzitutto, la radio, la modulazione di frequenza, una risposta di segnale ottima che non dà assolutamente la precisione assoluta di tutte le risposte in economia. Per quanto riguarda la serie delle radio, ha un'ergonomia eccezionale in quanto si tiene impugnata in maniera molto efficiente. La risposta del segnale è ottima, la precisione del mondo è assoluta. La schermata iniziale è molto semplice.